Noi solitamente ridefiniamo il momento in cui oggi operiamo sul mercato come l'era della digital disruption, ovvero la digital disruption era, un'era in cui la portata di trasformazione tecnologica unita a due leve di trasformazione che sono quelle competitive di mercato sta creando di fatto delle condizioni senza precedenza di cambiamento e di forte trasformazione sia sui ruoli che anche sugli attori che oggi compongono le diverse filiere dei settori di industria. In questo momento parliamo di digital only e non più quindi di digital first perché i clienti, i dati, l'ecosistema digitale, i business partner, i fornitori, tutto è diventato di fatto digitale e sta abilitando nuove forme di connessioni e quindi nuove forme di business sul mercato in cui ormai la scelta tra le due categorie è essere disruptor o essere disrupted e in questo momento il rischio più grosso che le aziende possono correre è quello di rimanere ancorati allo status quo, quindi il cambiamento e la trasformazione non più una scelta ma una vera e propria necessità per poter dirimere il successo dei prossimi anni e proprio vantaggio competitivo. Sicuramente oggi operiamo in un mondo in cui di fianco all'IT tradizionale e di fatto di tutto il legacy dei sistemi informativi stanno venendo avanti delle nuove tecnologie, delle nuove frontiere tecnologiche di forte carattere innovativo. Ne cito alcune, una per tutti sicuramente tutto quello che è il mondo degli analytics, dei big data, unito a quello che di fatto è la nuova frontiera dell'artificial intelligence o augmented intelligence, quindi la capacità di poter estrarre dai dati quel contenuto informativo per poter prendere decisioni in maniera sempre più tempestiva e sempre più accurata. Non dimentichiamo poi l'internet delle cose, quindi tutto ciò che è l'interconnessione tra device che oggi hanno superato il numero di persone all'interno del mondo e da cui si possono abilitare nuove forme di contatto e di dialogo tra domanda e offerta, fino a arrivare poi alla blockchain, fino a arrivare anche a tutto il tema della cyber security. Ecco queste sono le nuove frontiere tecnologiche che unite al mondo tradizionale dell'IT stanno rappresentando un enorme asset, un enorme portfoglio di soluzioni su cui poter investire. Il CIO è senz'altro una figura centrale all'interno di questo momento di trasformazione e di cambiamento tecnologico. Noi di fatto lo definiamo il vero cardine, il vero motore di trasformazione all'interno delle aziende, tant'è che oggi si tratta di ridefinire l'AI del suo titolo, quindi l'AI del Chief Information Officer e sempre di più l'AI oggi si riferisce a caratteristiche di ispirazione, di ingegno, di innovazione. Come IBM abbiamo lanciato una survey, l'abbiamo condotta a livello globale attraverso il nostro Institute for Business Value, intervistando più di 2200 CIO in giro per il mondo. E quello che emerge in maniera molto chiara è che il CIO oggi per poter vincere le proprie sfide e per poter raggiungere i propri obiettivi è chiamato a ridefinire il proprio ruolo, da una figura di gestione, di coordinamento a una figura di digital reinventor, è una figura anche di creatore di nuove piattaforme interne ed esterne per la propria azienda. Su questo infatti categorizziamo di fatto tre figure chiave, quella del digital reinventor, ovvero il CIO illuminato, quella del practitioner, ovvero il CIO che in questo momento ha una chiara strategia, ma non ha ancora tutte quante le competenze per poter abbracciare queste sfide, è quello dell'aspirational, ovvero qualcuno che in questo momento sta pensando al cambiamento, ma non è ancora in grado di poterlo abbracciare. L'information technology, grazie al suo potere prorompente, ha di fatto decomponentizzato le catene del valore tradizionale, riconfigurandolo all'interno di ecosistemi digitali. Ecosistemi in cui alle competenze, agli skill che possono figurare all'interno di un'azienda, si sommano quelle chiaramente di partner e di realtà che sul mercato possono complementare queste capacità. In tal senso IBM Services rappresenta il partner ideale per qualsiasi azienda che oggi sul mercato voglia compiere un percorso di trasformazione e di cambiamento tecnologico. Questo perché può mettere a disposizione asset fondamentali che vanno dalla capacità delle proprie persone, sia in ambito applicativo che in ambito infrastrutturale, alla redefinizione dei processi di business, fino a tutte quante le attività più afferenti alle tecnologie. Da questo punto di vista quindi IBM Services rappresenta nel suo percorso da system integrator a services integrator la chiave di volta per i CIO per poter riuscire ad abilitare la trasformazione digitale delle proprie aziende. IBM Services è uno dei sei pilastri dell'IBM Corporation all'interno delle nostre linee di offerta, alla stregua di IBM Cloud, IBM Watson, IBM Security, IBM Research and Development ed IBM System. Ma per la portata e per la capacità di integrazione di proposizioni IBM e di terze parti sul mercato, IBM Services è la meglio posizionata per poter rappresentare un driver di efficienza di tecnologia e di innovazione che possa rappresentare nei fatti il vero asse portante per la trasformazione digitale dei clienti dell'IBM.